Grazie all'orario di lavoro regolare e non avendo pendenze la sera, riesco anche a frequentare una scuola serale. Mi chiamo Andrea e lavoro per Viseca come consulente alla clientela. Durante il periodo di apprendimento sono costantemente accompagnato da colleghi esperti che mi aiutano durante i primi contatti con la clientela. Inoltre l'azienda si impegna a favore di una mobilità collettiva e sostenibile, dà anche un contributo a coloro che posseggono un abbonamento annuale arcobaleno.